Come ci siamo detti tante volte in Italia ci sono tanti psicologi e uno dei problemi che spesso abbiamo è come possiamo emergere rispetto alla concorrenza. Per me non è solo una questione di concorrenza, è anche e soprattutto un come faccio a lavorare dando qualcosa che funziona tanto perché è qualcosa che con me funziona tanto. In altre parole è il cercare di trovare il modo in cui tu puoi specializzarti in qualcosa che senti essere più adeguato al tuo modo di fare terapia e quindi più adeguato per le persone con cui farai terapia. Peraltro come avevamo già detto specializzarsi diventa effettivamente anche un modo per riuscire a emergere rispetto agli altri perché è come se tu volessi fare un corso di danza classica andresti dalla palestra che ha tanti corsi di danza o dalla scuola specializzata in danza classica. In questo video ti do 5 idee, 5 opinioni, 5 personalissime declinazioni che possono aiutarti ad avere un'idea del come noi psicologi ci possiamo specializzare. Prima specializzazione è quella sui problemi, cioè può essere lo specialista dei disturbi d'ansia, della depressione o dell'anoressia giovanile. Come vedi la specializzazione può essere a sua volta molto settoriale, nel senso che parti da una categoria ampia come lo specialista dei disturbi d'ansia oppure restringi il focus come lo specialista della depressione o ancora restringe un sottotipo, lo specialista dell'anoressia giovanile, cioè in questo caso dei problemi di anoressia sotto una certa età. Più ti specializzi più viene considerato di nicchia. È vero che in questo modo riduci la nicchia di persone a cui ti rivolgi, ma quella nicchia si rivolgerà soltanto a te. La seconda specializzazione è per tipo di clienti. Può essere per esempio lo specialista delle famiglie, lo specialista delle coppie, lo specialista dei bambini, degli adolescenti, delle persone anziane. Lo scegli tu. Anche qui non devi avere paura che gli altri non verranno da te. Prima di tutto perché comunque continueranno a venire da te. Ma in secondo luogo, se ci sono dieci psicologi generici, le persone si divideranno tra di loro e quindi non ci sarà una vera scelta da parte del cliente. Ma se tra questi dieci psicologi generici c'è uno specialista, per esempio, delle coppie, di tutto il mare di clienti che ci sono, di persone che ci sono e che si vogliono rivolgere a uno psicologo, le coppie sceglieranno con tutta probabilità soltanto lui. Un terzo tipo di specializzazione è per il tipo di professionista. Per esempio potresti essere lo specialista degli atleti. E anche qui ti puoi andare a sottospecializzare, per esempio, lo specialista dei calciatori o lo specialista dei corridori. E ancora puoi essere lo specialista dei manager, lo specialista degli artisti, per esempio dei musicisti o dei ballerini. Scegli una categoria professionale e specializzati nel risolvere i loro problemi. Quest'ultima cosa è una cosa chiave per tutto il tipo di specializzazione che tu vorrai andare a fare. Cerca di capire per ognuna di queste persone, per ognuna di queste categorie, quali sono i problemi che loro hanno e che tu puoi andare a risolvere. Quindi quali sono i benefici che per loro hanno un valore e che tu gli puoi apportare con il tuo metodo. Un quarto tipo di specializzazione è proprio la specializzazione in un metodo o in una tecnica particolare. Potresti essere lo specialista delle EMDR o lo specialista delle tecniche corporee o lo specialista della terapia asseduta singola. Però qui è ancora più importante che tu faccia capire quali sono i benefici che si traggono dal tuo metodo. Alle persone non gliene frega niente che tu sia specialista in EMDR o in tecniche corporee. Loro vogliono sapere che benefici quel tipo di tecnica o di metodo gli apporterà. Se tu riesci a spiegargli in parole molto semplici usando il loro linguaggio che la tua tecnica, il tuo metodo, gli permette di raggiungere più facilmente quell'obiettivo che per loro è importante, allora sarà un vantaggio per loro e allora sarà una specialista da cui andare. Un quinto tipo di specializzazione può essere quella situazionale, per così dire. Può essere lo psicologo specialista delle emergenze o delle guerre o delle migrazioni. Certo, in questo caso devi essere molto capace di andare a individuare chi sono i tuoi clienti, cioè chi è disposto a pagare per il tuo servizio, per il valore che tu gli riesci ad apportare. Non è difficile da fare perché se individui benefici che puoi apportare con i tuoi metodi e con la tua specializzazione, col settore in cui sei specializzato, sicuramente ci sarà qualcuno che è disposto a pagare per avere quel tipo di benefici. Queste sono solo delle idee, degli spunti, penso che però ci possono essere molti altri settori, molti altri modi in cui noi psicologi ci possiamo specializzare. Se ti va di elencarne qualcuno, anzi mi fa molto piacere, magari li metti qui sotto nei commenti, crea una sorta di grande database con tanti spunti, esempi in cui possiamo andare a specializzarci, in cui possiamo creare il nostro settore, la nostra nicchia. Penso che il nostro lavoro sia molto adeguato a fare questo, dato che la nostra professione ci permette di essere capaci di andare a dare dei benefici alle persone in diversi settori, in diversi modi, per diverse caratteristiche. Quindi spremiamoci un po' le meningi, il lavoro ce lo possiamo creare e capiamo di che cosa possiamo essere specialisti. Grazie.